Anche quello che stiamo vedendo, non è che chi ha governato per più di mille giorni in nostro Paese ha lavorato bene, perché è arrivato al governo del Paese promettendo una riforma al mese. Se vi ricordate, farò una riforma al mese. La fretta? Noi abbiamo sempre detto a Renzi, la fretta è cattiva consigliera e di conseguenza nel momento in cui fai tutto di fretta perché vuoi dimostrare di essere il più bravo, il più bello, io lo chiamavo la persona ormai che poteva anche far risuscitare i morti e camminare sulle acque, dopo tutto questo questi sono i risultati. La scuola che io ho seguito, la scuola è un disastro, io invito tutti i genitori che in questo momento ci stanno ascoltando e hanno i figli a scuola, non è vero che abbiamo risolto il problema del precariato.